Sono Don Piero Lezzoli, il parroco di Vigolzone. Ha saputo dell'iniziativa del bilancio partecipativo di Vigolzone? Sì, si è già da tempo fatto positivo perché aiuta le persone a interessarsi un po' di più della vita pubblica e quindi anche di provare a trovare delle soluzioni che con più persone che sentono il bisogno di fare qualcosa di bello per il paese possono arrivare a fare delle proposte utili. Io guardando all'asilo, alla scuola materna Orfani di Guerra, c'era l'idea di rendere i locali esterni a misura di bambino quindi con delle attenzioni proprio per i bambini, proprio per utilizzarli sopra di più nei tempi di bel tempo.